Giorgia Meloni non se ne sta seduta ad ascoltare quanto detto da Mario Draghi e passa al contrattacco. Alla leader di Fratelli d'Italia, unica forza politica all'opposizione, la conferenza stampa tenuta dal premier nella giornata di giovedì 2 settembre proprio non è andata giù. Sul reale conferenza stampa di Draghi e di Mezzo Governo, ha scritto puntuale su Facebook. E ancora, su trasporti e scuola il presidente del consiglio dice che la preparazione è stata, ben fatta e che ce l'abbiamo messa tutta, peccato che nessuno se ne sia accorto. Il tutto condito dalle notizie fuorvianti sull'epidemia diffuse dal ministro dell'istruzione Bianchi. Se in una classe sono tutti vaccinati non ci sarà obbligo di mascherina. Qual è la razza di questa scelta priva di giustificazione scientifica, visto che i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati? Finita qui? Il premier al ministro dell'interno Lamorgese, che per lui, lavora molto bene. E che sui migranti numeri, non sono spaventosi. Assurdo. Come Fratelli d'Italia siamo sempre più convinti che restare all'opposizione di questo governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani. Un duro rimprovero, dunque, quello della leader di FDI in risposta alle parole di Draghi. Il premier di fronte ai giornalisti non ha negato di essere d'accordo sull'obbligo vaccinale e la terza dose, ma di attendere il via libera di Ema e Aifa.